Siamo in classe, stiamo facendo un lavoro a gruppi, dobbiamo presentare la città dalla quale veniamo, Milano capitale. Milano è la zona nuova, è la zona nuova, è la zona nuova, è la zona nuova, scrivi che la gente viene a Milano per vedere me. Allora, giusto mix tra parte storica e... Quindi siamo qua a Rutherford, che è la cittadina vicina al nostro college. Tu prendi i tutti, prendi la schiata, prendi la schiata. Quanto costano? Un dollaro? Possiamo comprare una bandierina? No, no. Ti vado a comprare una bandierina? Cosa stai comprando? La mancia. Mostraci. Che cos'è? È... C'è un ragazzo di musica. Ho comprato dei plezzi qui dentro l'altro giorno. Dea lì, cosa state facendo? No, no, no. Andiamo a Fangulla. Eccoci qua al supermercato. Loro lo chiamano a fare, ma sì, anche se in realtà non è una farmacia. Sono buonissima. Oh, c'è un cane. Dobbiamo comprare le Doritos, so. Oh no. Scusi, sono solo queste. Prendile. Ma so, noi come facciamo a comprarci le Doritos adesso? Quello che pensavo anch'io. Prova a chiedere. Prova a chiedere? Sì, questi sono i miei favoritos. Scusi. 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 No. 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 Mi hanno finito le Doritos. Grazie a tutti